Proseguono i lavori per garantire l'apertura entro mercoledì o al massimo giovedì del nuovo centro vaccinale di Pescara. Quello all'interno del palazzo Fuxas in via Volta sarà il secondo della città e andrà in qualche modo a rimpiazzare quello del palafiere chiuso ormai da qualche mese. Gli spazi acquisiti sono quelli al piano terra per un totale di circa 1000 metri quadrati. Cinque le linee vaccinali inizialmente aperte e per questo sono stati già reclutati una decina di medici anche se all'appello ne mancherebbero ancora tra infermieri e amministrativi. L'obiettivo della ASLE che proprio questa mattina ha cominciato l'allestimento è quello di somministrare durante una singola giornata circa 500 dosi di vaccino che sommate alle 900 che già vengono effettuate nell'altro hub della città quello di Porta Nuova fanno 1500 somministrazioni solo nella città adriatica nella speranza di dare la spinta decisiva alla battaglia contro il covid. L'altro obiettivo dell'azienda sanitaria locale è quello di riuscire a vaccinare quanti più bambini possibili. Dal 16 dicembre, data di avvio della campagna per la fascia 5-11 anni, le inoculazioni sono state più di 8.000 tra prime e seconde dosi. Ma si è visto che per effetto della variante Omicron il virus colpisce tanto anche quella fascia di età e così dalla prossima settimana, sempre nell'hub di Via Volta, tutti i pomeriggi saranno dedicati i propri più piccini, evitando così lunghi viaggi verso gli hub della provincia di Teramo e l'Aquila. In provincia di Pescara ci aggiorna il dottor Di Luzio, referente della campagna vaccinale, l'87% della popolazione vaccinabili ha ricevuto la prima dose, l'80% la seconda e oltre il 65% ha ricevuto anche la dose booster. Quella di Pescara, con più di 4.000 dosi giornaliere somministrate tra lunedì e sabato, si conferma tra le province più attive nella campagna vaccinale.